Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha fatto appello al coraggio di cambiare le cose come componente fondamentale della buona amministrazione, prendendo la parola ad un convegno dal titolo Doppia Preferenza di Genere, una questione di democrazia paritaria e civiltà, sostenuto dall'assessorato pari a opportunità della Regione Marche. È stato un'occasione per fare il punto sull'iter della proposta di legge regionale sulla doppia preferenza in attesa di approvazione. Spero che arrivi il giorno dove non ci sia più bisogno di introdurre delle perequazioni di genere, ma d'altronde non è solo la Regione Marche a chiederlo ad alta voce, c'è una legge nazionale che è stata introdotta dal governo Renzi, la legge 20 del 2016, che obbliga i consigli regionali come il nostro, che non hanno adottato questi tipi di strumenti, a modificare la propria legge elettorale per introdurre queste misure di perequazione. La Giunta regionale addirittura anticipò questa legge nazionale, eppure sono oltre tre anni che questa proposta di legge, unico caso in tutta la storia delle 11 legislature regionali, non è mai prodata in commissione. E la domanda è come mai? Sicuramente immagino che il momento che introdurre più donne significa in qualche modo togliere gli uomini, gli uomini che rappresentano la maggioranza della composizione del Consiglio regionale, che da un lato non muoiono dalla voglia di introdurre questo tipo di modifica, ma io credo che la verità vera e in realtà sia un'altra, perché è semplice parlare di donne, quando si tratta giustamente di portare avanti una lotta contro la violenza sulle donne, come aborto, divorzio, eccetera, ma è molto più difficile farlo quando invece si tratta di temi, ad esempio, economici. Difficilmente si associa alla lotta che portano avanti le donne, ad esempio nell'ambito che riguarda il potere e soldi, come se fosse qualcosa di sporco, invece non lo è. Pensiamo ad esempio proprio al significato, l'etimologia della parola economia significa amministrazione della casa, una cosa che storicamente, ad esempio in Italia, era portata avanti dalle donne. Ecco, riuscire a fare in modo che le donne raggiungano le istituzioni, soprattutto un'assemblea legislativa dove si legifera, e quindi dove, insomma, si può cambiare anche nel concreto, nel quotidiano, la vita di tanti uomini e di tante donne, credo che sia proprio una questione di qualità della democrazia. Nonostante un cambio di sensibilità ci sia stato in Italia e in Europa, ancora c'è molto da fare. No, una cosa che non mi piace è che ultimamente c'è chi vuole associare questa proposta di legge ad una modifica dei collegi. Per carità, legittimo, parliamo anche di quello, ma sono due cose diverse. Quella proposta di legge deve colmare un vuoto che riguarda proprio questo ricolibro di genere. Se poi vogliamo parlare dei collegi, accorpiamo Ascoli, confermo, fare un collegio unico, quella è una cosa diversa, ma che non si uniscano le due cose, anche perché oltre che sbagliato credo che sia un modo per perdere ancora più tempo. Un segnale alle donne a questa regione va dato e va dato in fretta. Il regolamento prevede che dopo 120 giorni dall'approvazione, dal deposito, anzi, della proposta di legge, si possa portare a discussione direttamente in aula. Questi 120 giorni sono ampiamente decorsi. Oggi ho appreso che con grande piacere questa battaglia è sentita come battaglia di tutti, quindi credo che non ci sia nemmeno bisogno di farlo e le donne marchigiane non possono più aspettare. Quindi speriamo che questo segnale dai maschietti arrivi presto.